allacciate le cinture state per partire per un viaggio molto speciale in compagnia di radio italia 30 anni un viaggio attraverso i numeri 1 in classifica nei nostri primi 30 anni di musica italiana radio italia 30 anni festeggia con noi 30 anni di solo musica italiana nei negozi e autogrill